ragazzi è l'alba sono appena sveglio è l'alba davvero sono venuto sul torrente noce per fare per provare a pescare un po niente volevo farvi vedere canna piccolina adesso allungo ancora un po e volevo farvi vedere la montatura pesca a mosca cioè alla fine semplicemente ho messo una mosca leggera e questo è tanto questo è il tutto insomma e niente poi vi faccio vedere cosa se se prendo qualcosa che cosa sto prendendo l'anno prossimo spero di attrezzarmi con una gopro in modo da farvi vedere qualcosa di bello a livello anche come si dice di proprio di movimento di pesca quest'anno non posso ancora boh ragazzi sono in macchina e ho i piedi fradici perché sono andato a cercare vi faccio vedere le foto delle catture e niente spero che questo video vi sia piaciuto come sempre e vi lascio un qualche foto del torrente dall'alto da dove sono andato ciao a tutti grazie a tutti